Lisa, questa sera hai imparato molte lezioni e una di queste è dare sempre a tua madre il beneficio del dubbio. Amarizia, più giustizia, un pizzico di furbezia. Mmm, che profumino! Ah! Che sballo, il pesce triocchiuto! Posso avere il suo piatto, signor Mar? E' spacciato! Non posso crederci! E' il colpo di grado! A me il telefono! Rovinato ancora prima che toccasse terra. Passami la redazione. Ecco il titolo in prima pagina, Phil. Birds non ingoia la propria storia. Gli ultimi sondaggi indicano che la popolarità di Birds è precipitata al suolo come un certo pesce mezzo masticato.